All'IRCA è un'importante apparecchiatura per la salute. Presidente Ceriscioli, le marche avanzano in tecnologia? Le tecnologie oggi in sanità sono fondamentali, per quello si va verso la concentrazione, i centri specializzati e l'alta specializzazione. Poter contare su macchine come questa che oggi viene presentata, che riesce ad attaccare il tumore lasciando sani i tessuti attorno, con un bassissimo impatto in termini di intervento, significa offrire tanta sicurezza, tanta qualità, un alto livello della risposta e un buon servizio per i nostri cittadini. È un'esigenza che va perseguita in ogni settore, in modo particolare in quello sanitario, quello di concentrare le risorse per avere risultati di qualità. Lo possiamo dare grazie all'IRCA che è veramente una realtà straordinaria, si occupa del tema dei temi, che è l'anziano che oggi è il centro dell'attività sanitaria, poterlo fare in questo modo, con queste tecnologie, con queste collaborazioni, significa dare tanta sicurezza al nostro cittadino. Grazie a tutti.